Il principio di precauzione dovrebbe guidare, come non accade, tutte le azioni umane. La consapevolezza delle conseguenze aiuta non poco a rimodulare un'azione, una decisione, una scelta che stiamo per compiere, ricavando così beneficio per noi e per gli altri che finirebbero loro malgrado per essere coinvolti. Per stare al meteo il principio di precauzione viene interpretato, tradotto e deliberato a piacimento e ormai da tempo ha il suo scontato caposaldo nella chiusura delle scuole. Non appena la protezione civile dirama il bollettino, anche quando la colorazione della perturbazione in arrivo non prevede il diluvio universale, sulla scrivania dei sindaci ricompare l'ordinanza pronta per essere firmata. Gialla o arancione che sia, domani è salvo proroghe tutti a casa e scuole chiuse. Si arriva anche a paradossi come quello del sindaco che in un comune irpino lascia aperte tutte le scuole e ne chiude una soltanto perché ubicata, dice, in una zona a rischio. Quando tornerà il sole quella scuola sarà tornata sicura. L'abuso del principio di precauzione per stare ai sindaci ha un suo non irrilevante fondamento, il timore di finire indagati dall'omissione di atti di ufficio al disastro colposo nel caso di conseguenze nefaste dovute al maltempo. La prudenza non è mai troppa, si dice, ma alla lunga diventa la coperta a portata di mano per coprirsi da responsabilità che cadono su un amministratore ma che chiamano in causa direttamente o indirettamente una folta schiera di responsabilità. Il problema da affrontare è come utilizzare meno il principio di precauzione ad libitum e come far ripartire quello della prevenzione. Dato che le piogge non possiamo fermarle con danze all'incontrario, converrebbe riflettere sui danni che il principio di precauzione così inteso produce più in generale. La precauzione che diventa difesa personale, pensate ai medici che per evitare rogne spediscono tutti al pronto soccorso, non ci salva dalle conseguenze e lascia le cose come è peggio di prima.